Casetta di amici, caos, perché tra i Wax è finita a parolacce. Nervi tesissimi nella casetta di amici di Maria De Filippi. Wax e Aaron se le sono cantate di santa ragione. Con il primo che ha finito per sbroccare, proferendo una serie di parolacce e dicendo senza giri di parole di non provare alcuna simpatia per il compagno d'avventura. A far crescere la tensione nella scuola più popolare d'Italia è stato un guanto di sfida che Rudy Zerbi ha lanciato ad Arise Wax. Guanto che questi ultimi due hanno rifiutato. Finita qui? No, perché Arisa, nelle scorse ore, ha a sua volta lanciato un guanto ad Aaron, che ha finito per adirarsi con Wax. Motivo? Avrebbe voluto essere messo al corrente della faccenda proprio da Wax che invece è stato su posizioni vaghe quando gli è stato chiesto della questione, sì? No, boh, non lo so. Ma come si suol dire, i nodi, prima o poi, vengono al pettine. E infatti a distanza di poco tempo Aaron ha compreso che Wax sapeva. Apriti o cielo. Arise ha avvisato Aaron che lei e Wax non hanno accettato il guanto di Rudy e che invece ne hanno proposto un altro. Un confronto su un pezzo con delle barre scritte. Quando Wax è arrivato in casetta. Aaron ha chiesto spiegazioni, ma quindi dobbiamo scrivere delle barre e sfidarci? Perché ieri sera non me l'hai detto? Come mai se sapevi tutto da ieri? Continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio. Questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida. Wax, messo alle strette, ha perso la pazienza e si è sfogato pesantemente, attaccando il collega e ribadendo. Anche se in modo non proprio convincente, che non l'ho avvisato del guanto di sfida non in modo volontario. Io non lo sapevo. Va bene lo sarò scordato. Ti ho fatto capire che non avevamo accettato il guanto di Zerbi. Ma della sfida di Arisa me lo sono scordato, ha spiegato il giovane artista che ha poi alzato ulteriormente i toni. Non misurando nemmeno le parolacce, oh bro, vattene a fare in ci io mi sono proprio rotto i coi po' a pua. Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in ci io per la seconda volta non ci sono problemi. Il rapper, ormai a briglia sciolta, ha pure evidenziato allo stesso Aaron che per lui non prova alcuna simpatia, e che cao vuoi con sta cosa? Io se mi reputo un artista e non un cantante dico quel che cao mi pare. Questo accanimento mi dà fastidio. E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell'asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino. Io ti mando a fare in ci io perché non mi stai simpatico come persona. Non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti. Amici ufficiale, et amici ufficiale, 21 March, 2023. Il talent show è da poco entrato nella fase ultima, il serale. La competizione si sta facendo ancora più serrata e inevitabilmente la tensione è aumentata. Il battibecco di fuoco tra Arone Wax ne è la prova. Il battibecco di si sta facendo. Il battibecco di foci e non lo la spaventare. Le battibecco di crema. Noi, non ti voglio guardare. È il battibecco di fattori. È il battibecco di fuoco alla raffa. È il battibecco di fuoco di cose anche. Grazie a tutti